Al comune di Chieti nasce un nuovo raggruppamento consigliare che ruota intorno al presidente della squadra di calcio Teatina Altaire d'Arcangelo, il quale tende la mano al sindaco Diego Ferrara per arrivare a fine mandato. Lo scopo e gli obiettivi sono il bene della nostra città. Questo gruppo è nato dalla passione comune per Chieti, che anima un gruppo di consiglieri comunali che hanno deciso, provenienti tutti quanti peraltro da storie diverse, di condividere insieme un progetto per il rilancio della città di Chieti cercando di dare un supporto all'amministrazione comunale in un momento particolarmente difficile per la nostra città dove forse un richiamo a tutte le forze responsabili diventa necessario per dare un nuovo slancio a tante progettualità che si possono e si devono realizzare per Chieti. Del nuovo raggruppamento, formato da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza, fanno parte Serena Pompilio, Nunzia Castelli, Filippo Di Giovanni, Enzo Ginefra e Bruno Di Iorio. Fungeremo da supporto se il sindaco vorrà accogliere questa nuova energia che si sta concretizzando e questa disponibilità. Collante di questa operazione il patron del Chieti. Senza dubbio Altaer d'Arcangelo ha portato in città un entusiasmo e un'energia che attraverso un colloquio continuo e costante con tutti noi come singoli consiglieri ha risvegliato la voglia di stare insieme per costruire superando steccati, barriere e casacche di partito. Rivendicherete una rappresentanza in giunta? Non è questo il tema, noi rivendichiamo voglia di fare e necessità di farlo con qualità, impegno e competenza.